Lola Corre è un film del 1998 diretto da Time Tyquer e avente come protagonista pressoché assoluta Franca Potente che interpreta la Lola appunto che corre. Siamo in Germania, siamo probabilmente a Berlino e Lola, la protagonista di fatto riceve una telefonata nel suo appartamento. È il suo ragazzo, Manny, interpretato da Moritz Bleiberthru. Manny ha fatto un casino. Egli infatti evidentemente addentro in qualche modo a un circolo in qualche modo manavitoso. Cosa ha fatto? Doveva essere da comandante in qualche modo inviato a recuperare dei soldi in cambio di gioielli, in cambio di pete preziose, ma ha fatto un casino perché nella strada di ritorno lui ha preso la metropolitana e per sfuggire a una ipotetica non retata delle forze dell'ordine in realtà, ma un semplice controllo di routine delle forze dell'ordine. Cosa ha fatto? Ha preso ed è fuggito di fatto dalla metro, lasciando però il sacchetto contenente il denaro sul vagone. Ha fatto quindi un casino. Un casino che da lì a 20 minuti potrebbe portargli dei grossi problemi, perché se lui non troverà 100.000 franchi nel giro di una ventina di minuti, il suo capo probabilmente gli farà la pelle. Comincia quindi una corsa per Lola, una corsa che disperatamente cerca di impedire a Manny di fare l'ennesima cavolata, ovvero sia di tirare fuori la pistola e di fare una rapina in un supermercato, sperando di recuperare abbastanza denaro da salvarsi la pelle. È un film che per certi versi è tutto qui, assolutamente sì. È un film questo che ho avuto modo di vedere, andando a cercare un pochettino su internet, è in grado di dare la possibilità allo spettatore di avere delle esamine di stampo filosofico inerenti libero arbitrio, inerenti la possibilità della coscienza in qualche modo di influenzare quello che poi potrà essere il futuro. Al tempo stesso questo è un film che permette di esplorare effettivamente che cosa? Il rapporto che c'è tra i piccoli cambiamenti che possono essere fatti ed il futuro. Vagamente come The Butterfly Effect, l'effetto farfalla, tiri del caos e cose di questo tipo, che mi ricordano fra l'altro il film The Butterfly Effect e successivamente le conseguenze che da questi eventi possono verificarsi, ovvero sia flash forward che ci mostrano il futuro dei personaggi, è così che si dirà una storia. Una storia a tratti grottesca che ci mostra, assieme a questa corsa frenetica di Lola, la sua vita. Piccoli sprazzi della sua vita in realtà. Magari personaggi della sua vita, come ad esempio il padre, che è un ridomato dirigente di banca o qualcosa del genere, che magari sta attraversando un momento molto particolare e che sarà forse l'unica ancora di salvezza per la nostra Lola. Una Lola che correrà. Correrà freneticamente, correrà più non posso, correrà più e più volte in realtà, perché questo è un film in cui la storia riesce a riprendere se stessa e a mostrarsi nelle varie sfaccettature che la sua stessa natura, l'esistenza, per certi versi, può permettere. Bello, mi è piaciuto questo film? Nella sua immediatezza e nella sua ora e un quarto circa mi è volato via. Mi è volato via questo Lola Corre che, dal punto di vista filosofico, devo essere sincero, io personalmente non ho apprezzato chissà quanto perché non ho trovato il tutto, l'interpretare psicologico e filosofico, accompagnato in maniera organica con la storia. E al tempo stesso non l'ho trovato evidente, sinceramente, questo palesarsi del potenziale e significato filosofico appunto del tutto. Leggendo un pochettino su internet ho letto che ci sono state varie discussioni in merito. Ad esempio ci sono alcuni elementi che effettivamente potrebbero essere rappresentativi di questa chiave, diciamo, al di sopra dell'ordinario per certi versi. Basti pensare, ad esempio, alla scena nel casino quando la protagonista, che più volte ha gridati in qualche modo, ha influenzato i vetri vicino a sé, riesce ad influenzare addirittura una roulette. Io me lo sono goduto questo film come un semplice viaggio. Un semplice viaggio, una corsa appunto con questa protagonista, e un viaggio assolutamente delizioso, perché la regia ed il montaggio di Leola Corre sono un qualcosa di assolutamente efficace a mio avviso. Io ho corso con la protagonista, ho avuto modo di vivere i turbini in 2D e i 3D in realtà con la protagonista, le varie difficoltà legate all'habitat in cui si trova, e al tempo stesso ho avuto modo di avere queste sequenze a pratti veramente grottesche che mi hanno appassionato e che mi hanno fatto davvero percepire lo scorrere del tempo e l'imminenza appunto dello scadere di esso assieme al personaggio di Leola, interpretato in maniera forse un po' esile e stremenzita, ma comunque efficace ed efficiente a mio avviso da Franca Potente. Se vi capita quindi, sia che vogliate, una visione che magari vi permetterà di aprire la mente a qualche possibilità di lettura superiore, oppure se volete semplicemente un turbinio, un vortice di action di fatto in qualche modo, che dura un'oretta e un quarto, quindi volo avvio che è una bellezza, questo è il film che fa che voi, e quindi ve lo consiglio. Leola Corre di Time Time Quare. Recuperatevelo.